Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video True Crime. Il caso di oggi mi ha fatto molto riflettere su come il desiderio di controllare una persona su un'altra può arrivare a cancellare tutto il bene e l'amore che c'è stato in passato tra esse. Il caso di oggi ci porta in Brasile, nella città di Bello Horizonte. Aline Mendez nasce il 1979, la più giovane di quattro figli. La situazione in famiglia è tutt'altro che serena. Il padre, alcolizzato, è solito passare interesserata al bar mentre la madre è sempre al lavoro. Questo porta la ragazza a doversi prendere cura dei fratelli più piccoli da sola. Nel 2001 Aline lavora in un negozio per contribuire al bilancio familiare. Qui incontra Riccardo Godichino, un ragazzo di alcuni anni più grande che si occupa delle consegne. I due incominciano a frequentarsi e un paio di anni dopo, nel 2003, iniziano una relazione. La coppia, desiderosa di trasferirsi altrove in cerca di una vita migliore, scopre che grazie alle origini italiane di Riccardo, l'uomo può ottenere il passaporto italiano e avere, in questo modo, la possibilità di migrare in molti paesi in Europa. Decidono di andare in Gran Bretagna. Grazie ad alcune conoscenze di Riccardo, riesce ad ottenere un finto certificato di matrimonio, permettendo quindi anche alla compagna di seguirlo. I due si stabiliscono a Londra. In poco tempo, Ailini, persona solare e grande lavoratrice, trova lavoro in un albergo e famicizia con la collega Vanessa, anch'essa brasiliana. La lontananza dalla famiglia e le origini comuni creano un forte legame tra le due, che diventano migliori amiche. Quattro anni dopo, Ailini inizia una piccola attività di preparazione e vendita di torte brasiliane, molto amate e richieste nella zona in cui vive. E ovviamente coinvolge in questa avventura Riccardo e Vanessa. Tutto sembrava andare per il meglio e di lì a poco nasce il primo figlio della coppia. Sfortunatamente si scopre che il bambino soffre di una rara malattia e ha bisogno di cure specifiche. Dal momento che il loro certificato di matrimonio è falso, per non correre i rischi e permettere al bambino di ricevere le cure necessarie senza incappare in problemi, la coppia decide di tornare in Brasile. Passano alcuni anni e la famiglia dà il benvenuto a altri due bambini. Ailini è sinceramente felice della situazione. È a casa e ad essere madre sempre stata sua aspirazione. Lo stesso non si può certo dire di Riccardo, che non riesce a riambientarsi e inizia a fare uso di sostanze, cambiando totalmente e arrivando a un certo punto ad abusare della moglie. Questo porta la coppia a separarsi, ma per un breve periodo Ailini accetta infatti di fare un nuovo tentativo, a patto che Riccardo smetta di fare uso di sostanze e torni pulito. Come potete ben immaginare, questo non succede. L'uomo continua a fare uso di sostanze e la situazione torna al punto di partenza. Ailini, giunta ormai al punto di non osare lasciare Riccardo per paura di quello che quest'ultimo avrebbe potuto fare a lei o ai figli, chiede però di tornare in Inghilterra, dal momento che mantenere una famiglia numerosa in Brasile non era possibile. Dopo sei anni torna a Londra, ma le cose sono cambiate. Per i due trovare lavoro è quasi impossibile e nel mentre Riccardo continua a fare uso di sostanze. Fortunatamente Vanessa è disponibile ad aiutarli e offre loro la possibilità di vivere in casa sua e di suo marito. Passano tre anni, Ailini dà la luce una bambina. La famiglia continua a vivere da Vanessa e gli abusi da parte di Riccardo continuano. Una sera Vanessa e il marito vengono svegliati da delle urla, corrono in soggiorno e trovano Ailini terrorizzata e Riccardo a pochi passi da lei. I due stavano discutendo, ma la situazione è degenerata e l'uomo è saltato addosso alla moglie. Non era la prima volta, ma Ailini decide che ne abbastanza e comincia a pianificare di lasciare Riccardo, aspettando solo il momento migliore. Per mantenere la famiglia, una volta tornato dal Brasile, l'uomo aveva creato una piccola azienda di costruzioni che andava abbastanza bene, ma dal momento che non aveva alcuna nozione di contabilità, aveva accettato l'aiuto della moglie, che si occupava quindi di fatture e pagamenti. Un giorno, durante un controllo ai registri, Riccardo trova delle discrepanze e si convince che Ailini abbia sottratto dei soldi per lasciarlo e potersi mantenere. Le cose non stanno così, infatti si scopre che non vi era stato alcun furto, ma Riccardo aveva semplicemente fatto male i calcoli. È ormai chiaro però che la situazione della coppia stava diventando insostenibile. L'uomo, che ha avuto un grande potere sulla donna, decide di provare a ingannarla. La informa di aver iniziato una nuova relazione e volersi sposare con un'altra. È sicuro, visti i precedenti, che Ailini lo pregherà di rimanere, ma non è così. Con sua sorpresa, la donna lo incoraggia a iniziare le pratiche del divorzio. Nel periodo di Natale 2018, la situazione peggiora sempre di più. Vanessa e il marito sono in Brasile per le feste e la famiglia Gondinho è quasi sola in casa. Ailini è così spaventata dal marito che è arrivata a chiudersi a chiave nella stanza e a chiedere agli amici e conoscenti di venirla a trovare, così da essere sempre con qualcuno quando prepara da mangiare per i figli in cucina col marito in casa. Riccardo è consapevole che il suo matrimonio è finito e per quanto provi soddisfazione nell'usare potere che ritiene di avere nei confronti di Ailini, sa che la donna potrebbe prendere i figli e andarsene in Inghilterra in qualsiasi momento. Così prende i passaporti dei bambini e davanti alla moglie li fa appesi. E non è finita qui, Riccardo ha infatti un altro asso nella manica dal momento che la donna è entrata nel paese con un falso certificato di matrimonio, la minaccia di denunciarla alla polizia e farla arrestare. Ma questa volta Ailini non si ferma e il 27 dicembre si presentò alla polizia spiegando di essere scappata dal marito per la propria sicurezza e quella dei figli. Le forze dell'ordine si attivano e le trovano una casa sicura lontana da Riccardo, gli amici si stringono attorno alla donna creando anche una chat di gruppo su whatsapp per poterla aiutare nella quotidianità. Nel frattempo Riccardo è a casa e trova la vecchia sim telefonica di Ailini, una volta inserita nel proprio telefono ha accesso ai suoi messaggi, alla chat di gruppo creata da amici e attraverso un'applicazione di localizzazione. Sa sempre dove si trova la donna. Non è questo il caso perché Riccardo è entrato fisicamente in possesso della sim, ma lo sapete che ci sono tanti rischi nell'usare una rete wifi non protetta. Per evitare questo problema io uso NorVPN, un servizio per proteggere la connessione internet e la privacy online. NorVPN vi protegge contro siti poco sicuri e hotspot pubblici potenzialmente finti, permettendo di connettervi con più tranquillità da internet. Provate NorVPN dal link in descrizione con lo sconto speciale. In più avrete 4 e ripeto 4 mesi sul piano biennale grazie all'offerta del Black Friday, a tempo però limitato, sempre con i 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Ma non finisce qui. Ora che siete sicuri e protetti potete rilassarvi e guardare i vostri programmi preferiti in streaming, anche quelli che non sono disponibili nel catalogo italiano. Magari un documentario True Crime che parla di altre storie simile a quella del caso di Ailini e Riccardo. Ma adesso torniamo alla storia di oggi. Eravamo rimasti a Riccardo che aveva trovato la sim e è riuscito a localizzare la posizione della casa in cui cerca di penetrare per ben due volte e viene arrestato. Intervengono i servizi sociali ed è stabilito che l'uomo può incontrare i figli solo sotto sorveglianza. Riccardo ha ormai perso ogni potere che pensava di avere nei confronti di Ailini e non lo accetta. Continua a mandarle messaggi e minacce. La donna decide però di non mostrare i messaggi alla polizia, ma spera che l'ex marito si metta l'anima in pace. È convinta che, per quanto fuori di sé, l'uomo non farà mai nulla in presenza dei figli, quindi inizia a portarsi sempre dietro la figlia più piccola. È l'8 febbraio del 2019, Ailini e la figlia, appena scende dall'autobus, si dirigono a scuola dei figli più grandi. All'improvviso un pick-up nero si ferma sul marciapiede. Ne scende Riccardo che impugnando un coltello da cucina si butta su Ailini e la colpisce, pugnalandola ben sette volte. Una volta finito, lascia cadere il coltello, risale in macchina e si allontana. Le persone che hanno assistito alla scena, altre mamme che andavano a prendere i bambini, chiamano subito i soccorsi e la polizia. Una di loro cerca di coprire gli occhi della bambina, ma inutilmente, purtroppo, ha visto tutto. L'ambulanza arriva, ma non c'è niente da fare. Riccardo viene arrestato poco più di un'ora dopo. Il fatto è accusato di omicchio di primo grado e detenzione di arma pericolosa in luogo pubblico. Al processo negherà ogni tipo di abuso alla moglie e afferma di non aver mai avuto alcun desiderio di ucciderla, ma di aver agito d'impulso. Per la rabbia di non poter vedere i suoi figli. Nel corso delle udienze saranno ascoltati molti testimoni, amici e colleghi che confermeranno il comportamento possessivo e violento di Riccardo nei confronti della moglie. Alla fine del processo, Riccardo viene condannato all'ergastolo. Tuttavia, nel maggio del 2022, è stato deciso il suo trasferimento in una prigione brasiliana. Dal momento che in quel paese non esiste l'ergastolo, la pena è stata commutata con la più grave prevista dalla legge locale, 30 anni di reclusione, a cui vanno tolti quelli che l'uomo ha già scontato in Inghilterra. La pena è quindi passata dal carcere a vita a 27 anni di reclusione. Eccoci quindi arrivati alla fine. Ringrazio ancora NordVPN per aver sponsorizzato questo video e spero di vedervi al prossimo.